salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di gemagamer oggi siamo qui come potete vedere sulla beta di uncharted 4 la fine di un ladro ho scaricato la beta proprio ieri perché non avendo non avuto tempo l'altro i giorni però adesso andremo a provarla insieme perché penso che entro oggi la stacchi nella tolghi la tolgano di mezzo dato che doveva essere doveva essere disponibile fino al 7 marzo allora io ho fatto soltanto l'introduzione fino adesso quindi quella piccolo tutorial devo dire il gioco più o meno si presenta come la come tutti i vecchi angiardi le dinamiche il gioco sono sempre quelle più o meno i movimenti sono stati migliorati le animazioni le ambientazioni con l'ambientazione dell'introduzione molto bella è fatta anche abbastanza abbastanza decente ecco qui intanto abbiamo trovato i nostri avversari allora io sono un amante del oh guardate questa mp3 e 4 vabbè dai andiamo di più questa e io voglio essere nata andrè non me lo fanno a mezzo allora knoth guardate che tipo grande allora ragazzi dovete sapere che c'è uno che mi parla nell'orecchio non so chi è un mio alleato non so nemmeno come funziona sinceramente questo gioco allora guardate quale sono tamarro lui allora però non mi ha detto come si carica andiamo subito così di cattiveria attenzione è gemma gemma ah ma come rincula oh questo strozzo di merda ah come si cambia arma ah scusa un pezzo del merda si è fatto ammazzare quel coglione ok dove sei no 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 pezzo di merda come si cambia arma oh ah ecco pam ah 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 guardate che brutta fila fate il coglione allora carichiamo oh allora sicuramente questi sanno mirare più di me ma vedete un po' no l'è mancato c'è uno qui sopra c'è uno qui sopra c'è uno qui sopra vabbè però andiamo qui ah coglione voleva sfidare gemma gamer ragazzi però si è sbagliato molto oh che rione spari a casa dove sono? grande attenzione i fantastici 4 della scuola di gemma mamma mia che brutta morta l'ha fatto nata andrei allora andiamo dobbiamo muoverci in gruppo ragazzi perché solo così potremmo averla franca con tutti ovviamente ovviamente a palo di gruppo me ne vado da sotto questa è l'ambientazione dove è stata fatta la prova oddio cos'è quella cosa? vorrei capire cosa cavolo mi ha sparato ma posso cambiare classe? ah eh perché mi sa che io gioco meglio con aprovi con questo ma vorrei sapere l'obiettivo di questo gioco qual è? l'ho visto l'ho visto l'ho visto l'ho visto minchia ma starva l'incula troppo però ah Nathan ma cazzo sta se si è G ma che non vede ah questo lo raccolgo io di qua di qua ragazzi sono di qua il mio fiuto mi dice che siano qui è un'ambientazione molto vasta questo del multiplayer mamma mia ah c'è uno che sta morendo vuole andare a rigenerare se sono lo trovassi ma come cazzo fa? ecco ecco ah per i gil mamma mia ragazzi stavo provando a rigenerarmi subito volevo farlo subito subito in fretta andiamo 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 allora dovremmo avere un'altra classe adesso vediamo questo oh questo è un cecchino come cazzo mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia oh sti cazzi sti cazzi sti cazzi sti cazzi sti cazzi sti cazzi dai ci stanno abbattendo 14 17 ci hanno abbattuti tutti solo uno è rimasto in vita dei nostri sto stronzo di tom savenger allora ragazzi io sto apprezzando questo gioco ora il multiplayer non è a caso mio in questo momento dato che ci ho giocato chissà questa è la mia prima partita che faccio eccolo il furbacchione eh ragazzi mi sono andato un po' di guidamento perché proviamo questo molto apprezzabile davvero ovviamente ci saranno altre mappe altri altri personaggi da poter usare ma quest'arma lo usavo oddio ma chi cazzo è la raffica 3 tom vaffanculo vai ma chi è quello cioè quello è un cecchino puro lo voglio anch'io quel cecchino non c'è ma questo è quello che ho usato prima allora vado di ak47 selvaggio proprio ragazzi ma io faccio una qualcosa di furtivo tor anche perché il facebook non credo non fosse avanti pucichino d это questo è il turismo ciao c'è il Adolf tu sbloccare un bel colosso vieni con me vai seguimi 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 ma queste erano tutte le armi sti stronzi ma la torna legge ma guardate come mi ho ammazzato hai perso abbiamo perso ragazzi terzo posto io con 4 abbattimenti e 5k guardate pib 1615 ha fatto strozzo possiamo interrompere bene ragazzi questo video si conclude qui non penso di portarne altri perchè la beta dura pochissimo dovrebbe durare forse qualche altra ora comunque se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace condividete e iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video fatemi sapere cosa pensate di questo gioco un saluto da GemmaGamer ciao 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 Ciao